Ultimo giorno domani per visitare il presepe Vittoria Antica, realizzato dai fedeli della parrocchia di Santa Maria Goretti. Il gruppo dei giovani, aiutato da qualche genitore, si è trovato a lavorare in sinergia per realizzare un presepe molto particolare, ambientato nella città Ipparina dell'Ottocento. Quattro i quadri realizzati che portano il visitatore ad attraversare diverse ambientazioni della Vittoria Antica, popolate da personaggi arabi vestiti però con gli abiti della tradizione siciliana, nell'ottica di una perfetta integrazione. A completare la visita le poesie declamate dai giovani che accompagnano i visitatori, spiegando ogni quadro. Il tutto è poi accompagnato dalla degustazione di prodotti tipici. Un presepe che ha destato tanta curiosità e ha fatto registrare migliaia di presenze durante le festività natalizie. Davvero una catalizzazione di interesse attorno al presepe qui e alla chiesa parrocchia di Santa Maria Goretti a Vittoria? Sì, abbiamo visto tanta gente che è venuta a farci tanti complimenti, soprattutto per l'originalità e l'ambientazione di questo presepe. Molti hanno apprezzato rivedere i luoghi della propria città, rivederli anche con uno sguardo al passato, ma anche con uno sguardo al futuro. Questo presepe è visitabile fino a quando e a che orale? È visitabile fino all'ultima serata, giorno 6 gennaio, dalle ore 17 alle ore 22. C'è pure la degustazione della ricotta calda e della mitiluglia.